Ora costruiamo un ciclo, molto semplicemente cominciamo a ragionarci, questo ciclo cosa dovrà fare? Siccome partiamo da 1 e poi i divisori vanno di volta e volta incrementati, utilizzando questa nuova istruzione INC, cosa fa? INC incrementa di 1 il valore della variabile o del registro, quindi INC divisore. Quindi il divisore al primo giro di questo mio ciclo che sto andando a fare varrà 2. Seconda istruzione, poi ci pensiamo, terza istruzione, poi ci pensiamo, eccetera eccetera, poi ci pensiamo, metto te i commenti giusto adesso per darci un'idea. Quindi qua ci sono le istruzioni che andranno poi a fare la divisione per il numero, a cercare di capire se è primo o se non è primo, insomma. E poi dopo il ciclo, quando finiamo questo tipo di ciclo? Il primo caso in cui andiamo ad uscire è quello ultimo, quindi se il numero è primo, praticamente, se il numero è primo noi usciamo perché? Perché siamo arrivati al 3, siamo arrivati al massimo, che adesso è in BL, siamo arrivati al max. Come si fa a fare questo discorso? Si fa con una bella compare tra BL, che è il nostro massimo divisore che avremo, e la variabile divisore. Quando questa sottrazione mi darà 0, significa che abbiamo tentato tutti i divisori e nessuno di questi divisori ci ha detto che il numero è primo. Di conseguenza esco dal ciclo. Uscendo dal ciclo, cosa andrò a scrivere qui, praticamente, andrò a scrivere il ciclo per fare in modo che lui salti quando questa non è 0. Cioè, quindi, pensiamo così, che salti quando questa, sì, quando questa non è 0, quando questa è 0, deve andare su, praticamente. Cerchiamo di ricordarci, cosa dobbiamo usare? JZ o JNZ? Adesso ne prendiamo una a caso per fare una prova e vediamo cosa succede. JNZ ciclo. Vediamo. Così guardiamo anche i flag per ricordarci, no? Flag a vista, perfetto. Single step, single step. Partiamo da qua, questa parte l'abbiamo vista prima, vado oltre. Ripartiamo da qua. In BL abbiamo il valore 3, che è il massimo che dobbiamo raggiungere. Adesso il divisore, ve lo faccio vedere con VARS. Il divisore in questo momento è 1, questo qua. Perfetto. Prossima istruzione, incremento il divisore. Il divisore, come vedete, giustamente adesso è 2. Fa la compare. Compare tra che cosa? 3 meno 2. 3 meno 2 fa 1. Come vedete, il flag di 0 non è stato minimamente toccato. Quindi 0 diventerà 1. Quindi noi avremo un JZ, praticamente. JZ è, dice, quando è 1, salta. Quindi noi ci stiamo dicendo di tornare su. Arriva qua, fa la sua compare. A questo punto è 1, come vedete qua. Perché ha fatto 3 meno 3 che fa 0. Esco. Perfetto. Ora, il ciclo è fatto. Se esco in questa situazione, la cosa che devo fare qua è dirgli, guarda che il numero è un numero primo. Come si fa a dirgli allora? Rubiamogli questa. Siccome queste 3 istruzioni, proprio così come sono scritte, adesso copiamole così, ignorando nel significato che lo vedremo più avanti. Però questo mi dice, stampa a video una stringa. La stringa è quella di Piki. Quindi in Piki, io adesso metterò questa frase, e la frase che vado a metterci è, il numero è primo. Così, il numero è primo. Perfetto. E vediamo cosa succede ora. Quindi questo qua, adesso invece che autostudine, si chiama output, numero primo. Ora, chiaramente, se c'è questa frase per il numero primo, creiamoci anche la medesima per il numero che non è primo. Il numero non è primo. E giustamente, dovremo poi fare un copia e incolla, adesso brutalissimo, perché poi scopriremo cosa significa, in cui metteremo numero che non è primo. Quindi questa stampa a video, come la abbiamo chiamata, chiamiamola all2 per adesso. La seconda frase è, il numero non è primo. Quindi cosa succede? Che lui ha capito che il numero è primo, però per evitare che scriva, che scriva prima che il numero è primo e poi che il numero non è primo, dobbiamo farlo andare via. Ora facciamo jump, fine. Quindi mi ha detto che il numero, facciamo un paio di spazi giusto per farci capire bene cosa succede, se no diventa illegibile adesso qua, ok. Quindi stampa che il numero è primo e poi salta a fine. E fine, facciamo chiudere proprio il programma qua, qui, fine due punti, aspetta la pressione di un tasto, io so farci vedere il risultato e poi chiuderà il programma. Perfetto. Quindi qui non ci resta che mettere adesso l'etichetta n' n' è l'etichetta che mi dice il numero non è primo. Quindi faccio tutte le divisioni, se esco da qui senza fare salti strani, quindi se esco da qui e ho finito tutte le mie divisioni vuol dire che il numero è primo. Scrivo che il numero è primo attraverso queste tre magiche istruzioni che vedremo in più avanti. Adesso prendiamo per buono che scrivo una video la frase che c'è scritta sopra e poi saltiamo a fine. Quindi tu, stampa a fine, aspetta la pressione di un tasto, queste due istruzioni che poi scopriamo come mai, perché comunque servono a fare la pressione, ad aspettare la pressione di un tasto e la tastiera, poi finisce.